Non sarà baricentrica a livello geografico, ma a livello culturale ricopre un ruolo di primordine, un punto d'equilibrio tra la magnificenza di Roma e le potenzialità dei territori. Parliamo di Cassino, città che è stata al centro di un evento organizzato dal distretto 2080 cittadino del Rotary Club, intitolato proprio la giornata della cultura del Lazio. Cassino è la radice, la culla di quello che è stato l'irrorazione della cultura attraverso la rete dei conventi benedettini, le vie devozionali, gli ospitalia e tutto ciò che fa riferimento a un territorio che ha avuto una sua capacità di raccordarsi a Roma. Da quest'anno vogliamo assolutamente, ed è un anno speciale, che Cassino sia capofila di queste vie devozionali dei benedettini. Un rapporto quello tra città e Rotary Club che affonda le sue radici negli anni. Il nostro club è un club da sempre vivacissimo, è un club che ci tiene tantissimo al territorio ed è presente sul territorio. Molti ricordano Cassino solo per l'evento bellico, solo perché è una città martire, ma in realtà Cassino e queste cose vanno valorizzate, messe in evidenza, è una città che ha tantissima storia alle proprie spalle. Un evento ancora più significativo perché è arrivato nei giorni in cui la città martire ha annunciato la candidatura dell'abbazia benedettina come patrimonio UNESCO. Capita a pennello, in un momento in cui lanciamo la candidatura dell'abbazia di Monte Cassino come patrimonio mondiale dell'UNESCO, arriva anche questa importante giornata di studi, ma appunto per valorizzare il territorio da un punto di vista culturale, turistico e ambientale. Questa iniziativa riguarda peraltro altre abbazie italiane, oltre insieme a Monte Cassino, il che ricorda l'importanza che ha avuto il monachissimo benedettino nella storia non solo italiana ma europea. Ma al di là di questo credo che ogni identità, anche identità regionale, abbia sempre bisogno di due radici, la radice della storia e la radice del territorio. Le sinergie sono la strada privilegiata per rilanciare il territorio e portarlo a sfide sempre più elevate. Il Rotary, devo dire, fa molto per questo territorio e noi siamo molto contenti di collaborare con le varie sezioni del Rotary, non solo quelle di Cassino, sono in rete tutte quelle del Lazio. Quindi mettersi in rete università, territorio, comune, regione, associazioni importanti come il Rotary, significa riuscire a fare meglio e a fare di più.